Qua sabato, sabato di 16 maggio, è l'ultimo sabato che interverrò con voi a quest'ora, alle ore 19. Mi fa molto piacere essere qui e saluto gli amici come Silva, Gaetano e anche altri che fanno parte della redazione di Bridges of Light. Sì, oggi per la prima volta mi metto anche la cuffia, incredibile ma vero, ero così abituata al silenzio di questo periodo, quando eravamo tutti in quarantena, lockdown, e ora le persone cominciano a muoversi, a uscire, a spostarsi. Sì, mi ci metterò forse un po' di tempo per abituarmi adesso con il cosiddetto rumore che la città ha. Naturalmente non è una protesta, è una cosa bella, è una cosa molto positiva, ma ci metterò forse un pochino. Stavo bene anche nel silenzio, per così dire. Per oggi, un tema che avrei voluto trattare, o quantomeno commentare con voi, è quello dell'Italia naturalmente che riprende. Dall'ottica di quanto in questo periodo abbiamo imparato e abbiamo voluto valorizzare questo paese, per il bel paesaggio, per la cultura, per quello che ci offre... ogni giorno, nelle diverse regioni, per la genialità, creatività, la parte artistica, anche dei suoi abitanti, del proprio popolo. E l'Italia che ancora una volta, in un certo senso, non posso dire neanche malgrado tutto, ma che comunque è in prima posizione anche nella questione di questo cosiddetto momento che stiamo attraversando, giustamente, dal fatto che dopo l'Oriente, in Occidente, l'Italia è stato uno dei primi paesi più colpiti, che ha vissuto una situazione davvero allarmante nei primi tempi. E oggi molti sperano di essere, o diventare, o arrivare al punto in cui l'Italia sta arrivando oggi, o vorrebbero, per certi versi. Mi riferisco in questo caso anche al Brasile, perché quando qua noi eravamo nel nostro pieno della pandemia, io sentivo le persone in Brasile, e allora questa era una cosa ancora molto distante. Faceva paura, aveva un timore, ma era distante. Ora che lì sono in attesa del picco, seppur molto inferiore rispetto a quello che si è stato in Italia, così si immagina, vivono una situazione che noi abbiamo vissuto un mesetto fa, o un po' di più. E tutto questo fa un certo senso, direi. La nostra reazione è di fronte al nuovo, di fronte ai cambiamenti, e a una vita che si prospetta diversa per quanto sia stato fino adesso. Anche per questo ho pensato di non fare una diretta condivisa con ospiti, come ho fatto l'ultimo sabato. è stato bello, è stato divertente, mi ha fatto molto piacere. Ma giustamente dal fatto che oggi volevo parlare io a tu per tu, con voi che siete connessi, e mi piacerebbe molto percepire, capire il vostro sentire. Ogni momento ha il suo apogeo, ha il suo momento di alti e bassi, però ha anche un suo significato. e quindi mi piacerebbe saperne un po' di più invece di come state vivendo voi questa aspettativa di riprendere quello che è stato lasciato, perché non sarà ripreso come se è stato lasciato, appunto, sarà diverso, e dovremo un po' tutti adattarsi a una nuova realtà, a una modalità per tante cose. Non so chi di voi lo ha già fatto e chi lo deve fare nei prossimi giorni, anche nelle prossime ore. Quindi è una cosa che mi piacerebbe saperlo. Un'altra cosa invece che vorrei, mi piacerebbe commentare, è stata la dipartita del musicista Ezzio Bosso nella giornata di ieri. Sono rimasta sorpresa, sebbene che la dipartita di una persona non dovrebbe più sorprendermi, giustamente perché è materia di studio costante, questa per me. La sorpresa perché, e questo vorrei, se volete anche commentare, perché ha un doppio significato, magari più di uno, in quanto da adulto, non da sempre, non da bambino, è stato colpito dalla malattia degenerativa. È diverso il percorso per chi già nasce e vive quella situazione fin da piccolo e chi si trova con una determinata malattia da adulto. La reazione è altrettanto dura e difficile da accettare, specialmente quando fino in quel momento ha vissuto una vita, tra virgolette, o cosiddetta normale. E quindi il cambiamento. E poi riuscire a tramutare quella esperienza che apparentemente poteva sembrare negativa in qualcosa di positivo e soprattutto per gli altri, non solo per se stessi. E quindi io mi ricordo le interviste che ebbi l'occasione di seguire di questo maestro d'orchestra e mi rimaneva sempre molto colpita. L'ultima che ho visto qualche settimana fa l'avevo anche tenuta alla registrazione per condividere con gli amici perché io trovavo di grandissimo insegnamento le sue parole. Per tutti noi, specialmente per chi ha un cammino spirituale, perché lui parlava in un senso generico, amplificato, ma di grandissima utilità per tutto il percorso spirituale che noi facciamo. Quindi la mia domanda era proprio questa. Come starà vivendo lui spiritualmente parlando queste prime ore? Posso dire a lui come posso dire per qualunque altra persona. Mi riferisco a lui in questo caso perché era una persona altrimenti spirituale, non so se di una religione o l'altra, ma non importa, e che aveva capito molte cose, specialmente la sensibilità delle note e delle melodie. E ciò che può portare a noi convivere con la musica, questo altro aspetto della vita vissuto a sfondo di musica che cambia moltissimo. La musica in quanto vibrazioni, in quanto energia, cambia e ci fa cambiare. Quindi questo è un altro aspetto molto interessante di questo passaggio. E quindi ognuno di noi arriverà nel mondo spirituale in un modo, a seconda di come ha vissuto la propria esperienza terrena e a seconda del suo credo e di come si è stato accolto di questo momento, perché la nostra unica destinazione certa in questo mondo è quella di ritornare nel mondo spirituale. Quando e come? Non lo sappiamo, ma sappiamo che avverrà. Tante altre cose nella nostra vita potranno anche non avvenire affatto, nonostante tutto il nostro impegno. Questa è l'unica che di sicuro avverrà. quindi vediamo. Vedo un commento qua di chi dice io rivolgo la mia spenseratesse, spenserata e poi puntino e puntino. Spenserata. la libertà non ha prezzo con le dovute precauzioni. Da punto di vista espirituale noi avevamo già tutto e molte cose non siamo riusciti a comprendere, a viverle al meglio, ma avevamo e abbiamo ciò che meritiamo, ciò secondo a ciò che abbiamo seminato in queste e in altre incarnazioni. E quindi in questo caso questo rivolgo ha il significato di dire mi darò da fare per avere X. Non ci verrà redatto gratuitamente e non sarà automatico così come era o come eravamo abituati fino a pochi mesi fa. Questo mi appare molto chiaro per tutti noi ed è una considerazione con la quale dobbiamo convivere. Le cose torneranno come le proietteremo, come vivremo, con l'energia che impiegheremo noi, eccetera, eccetera. Non tutto sarà 100% come prima. Poi leggiamo un commento qua. Non riusciamo a leggerlo intero però io sì, nel monitor si legge solo un brano, solo un pezzo, no? Sempre un paradosso ma per tanto tempo mi sono sentita molto pesante quando iniziò quando iniziò il periodo del virus. È come se qualcosa si fosse alleggerito dentro di me, come se il cambiamento che stavo aspettando era arrivato. Non sarà mai più nulla esattamente come prima. Questo cambiamento doveva arrivare e questa è una cosa con la quale mi trovo d'accordo perché c'è arrivato, perché c'era da arrivare e c'erano stati i presupposti anche se noi magari non tutti l'abbiamo colto capito, sentire sì l'energia dell'ambiente, l'energia del pianeta, l'energia delle persone, quindi tutto un po' di sentire di sensibilità che naturalmente ci scombussola un po' per un periodo e poi pian piano le cose si ristabiliscono, ritornano nei loro posti. Ebbene sì, c'è ancora tanto lavoro da fare, per alcuni siamo all'inizio, per altri non abbiamo ancora iniziato, per gli altri siamo già a buon punto, eccetera. Non importa determinare quale punto del cammino siamo, l'importante è compiere un cammino, compiere un percorso e che l'abbiamo già iniziato. Ebbene comprendere che per quanti aiuti possiamo avere questo cammino possiamo percorrere da soli per certi versi, cioè quello che dipende da noi dipende da noi non dipende da altri, siamo noi che dobbiamo prendere, fare le nostre considerazioni e poi le nostre scelte. E questo mi sembra un concetto piuttosto chiaro. Poi che lo facciamo in compagnia, in società, in collettività va altrettanto bene, ma in fondo nei più dei momenti noi siamo, non direi soli, perché soli non siamo mai, ma abbiamo anche la nostra responsabilità, un qualcosa di noi di cui rispondere. sento un altro commento qua che dice la privazione di libertà può diventare pericolosa per le persone più delicate mentalmente, infatti sono aumentati i numeri ah, pensa un po', i numeri di suicidi. Vedete, queste cose importanti abbiamo da valutare nella nostra, io non oserei neanche dire tanto fragilità, anche se si potrebbe dire che siamo fragili, ma fragili per certi versi, non sempre e non comunque in ogni modo, in ogni caso. Abbiamo una forza di cui non siamo consapevoli, di cui non abbiamo ancora la conoscenza, o meglio, alcuni ne hanno, altri pochi, altri di più e così via. Non abbiamo uguale, non siamo tutti uguali da questo punto di vista, ma fragili lo siamo fino a un certo punto, perché siamo in grado di superare ben più cose di quanto noi possiamo immaginare, ben più cose di quanto noi possiamo supporre nella nostra esistenza. Solo quando ci troviamo a volte proprio nel senso dei termini con le spalle al muro, allora sì, dobbiamo prendere una decisione. E allora il cambiamento arriva, perché ci siamo dati una mossa anche noi. Allora, poi, ah, c'è qualcuno che mi chiama anche da demolutivo, grazie. credo che chi ha un particolare sensibilità per la musica sia certamente un'anima elevata. Sì, la musica è una delle forme, una delle arti che si assomigliano ad una delle forme più evolute di spiritualità. Questo lo dico anche dal mondo spirituale. Ma vedete, la musica, c'è musica e c'è musica. c'è quella musica che fa piacere, quella musica che porta armonia. La musica vibra, con fame vibriamo noi e noi si affiniziamo e ci mettiamo in sintonia con la musica a seconda di come siamo dentro e come stiamo in un determinato momento. Ci sono delle persone che sono molto numerose, molto arrabbiate, molto incavollate letteralmente e allora hanno una musica che sia simile, che risuona bene a loro. Altre sono romantiche, altre sono avventurose, altre sono socievole, altre sono un pochino più ballerine, altri vogliono sognare e altri vogliono camminare con i piedi ben piantati per terra. E quindi qual è la tua musica? Qual è? Qual è la tua musica? La musica che ti definisce e che ti lascia sciolto, che ti fa comportarsi con gioia specialmente. Ognuno ha la propria, no? Però, come ho detto, c'è chi sente la musica per gioia e c'è chi sente la musica anche per rabbia perché trova una musica che sia consona ai suoi pensieri e al suo modo di sentire. La musica è armonia come diceva Rossini e quindi in questa armonia ognuno di noi dobbiamo essere armonici e essere in accordo in sintonia con la musica. Sì, io concordo con questa frase che il maestro Boss era un'anima speciale perché non perché forse una persona nota al pubblico ma per gli esempi. In effetti noi possiamo insegnare le persone più che altro attraverso il nostro esempio e lui per quanto riguarda la la sua capacità se vogliamo dire così non dico neanche di rassegnazione ma di di riuscire a vivere il dolore la sofferenza e le difficoltà perché ce l'aveva e viveva e lo diceva anche lui e contrabbilanciare con la spessiera testa con la gioia che la musica può portare quindi è un connubio molto interessante quindi era una persona tutti insieme speciale e lo era speciale anche lui e ha reso la sua vita e la sua arte speciale insieme a lui insomma vedi alcuni dei vostri commenti hanno dato adito ad alcune informazioni ad alcuni pensieri mi piacerebbe condividere con voi un video che parla anche perché qualcuno prima ha scritto no di prima della pesantezza che sentiva poi un alleggerirsi ed una cosa che doveva avvenire perché ha sentito ha percepito che era una cosa che doveva avvenire c'è un video molto bello però io ce l'ho a lui nel nostro canale di youtube non so se l'ho nel computer perché purtroppo con questa modalità che utilizzo io per collegarmi con voi quando ho un brano o un video nel mio computer non sempre riesco a trasmetterlo con l'audio altre volte ero riuscita e c'era solo il testo ma siccome tutti i brani che esibisco hanno i sottotitoli sotto quindi si può accompagnare anche questo si potrebbe accompagnare al di là della musica di sottofondo perché c'è l'escritto che è quello più importante e quindi qualora non riuscissi a trovare il brano musicale con l'audio della musica o che poi fosse difficile sentirlo ci sono le parole che già dicono tutto e la dicono lunga e la dicono davvero lunga prima però di arrivare a questo video vorrei condividere con voi ancora un pezzo del testo del libro Guarigione e Liberazione è il testo che stavamo studiando il giovedì ma adesso finiranno le dirette del giovedì e anche quella del sabato da quanto mi pare di aver capito del nuovo calendario riprenderò in là mi sembra il 27 maggio che sarà credo un mercoledì sera e quindi avremo un po' di spostamenti e allora non so se continuerò con questo testo con questo libro di cui ho già parlato altre volte e che mi piace moltissimo quindi io vorrei proporvi un brano perché ne ha diversi io li trovo tutti molto interessanti ma io sono altamente sospetta di dirlo e quindi è meglio condividerlo con voi e chissà anche voi a dire un vostro eventuale parere va bene così ok allora guarisci liberati wow guarisci liberati allora facciamo in modo tale che io sia più piccola rispetto al testo in modo che il testo sia legibile e comprensibile va bene e incominciamo con un passaggio che dice se non ci fossero i problemi l'uomo si metterebbe comodo qualcosa deve sempre disturbare l'uomo in modo che sentendo il disagio cercherà soluzioni e modi e svilupperà l'intelligenza e la capacità di superare se stesso pensate no che dunque i problemi hanno una loro funzione providenziale necessaria per promuovere la crescita per far sì che l'uomo esca dalla sua abituale comodità vediamo qui e questo provoca un'evoluzione poco ma sicuro quando dobbiamo affrontare una serie di problemi invariabilmente cerchiamo di ottenere aiuto dalle persone diverse delle più diverse fonti se siamo ammalati andiamo dal medico se il nostro problema è finanziario chiediamo un prestito in banca se il dubbio si assilla ricorriamo al consiglio di un amico se il dolore è spirituale cerchiamo conforto nel tempio della nostra fede e così via tutto ciò è naturale e persino necessario perché di solito andiamo qui in alto per vedere quasi nessuno riesce ad uscire da un problema serio senza l'aiuto degli altri un tossico dipendente ad esempio difficilmente si libererà dal vizio senza la collaborazione di un professionista qualificato e l'appoggio della famiglia e sì come si diceva nessuno da solo in questo mondo non siamo soli e abbiamo necessità di aiuto per venire fuori dai nostri problemi da una parte i problemi che si presentano sono necessari per provocare la nostra capacità di resilienza di farci venire fuori e di compiere un'azione per noi stessi e anche per la società o per la comunità che viviamo ed è questo che dice anche questo passaggio e adesso facciamo ancora un altro passo in avanti e andiamo a vedere la pagina successiva che cosa ci dice non di rado tuttavia desideriamo trasformare gli altri nel salvatore delle nostre difficoltà esentandoci da qualunque responsabilità nella risoluzione dei problemi che in ultima analisi sono stati creati da noi stessi e pertanto devono essere risolti da chi li ha causati non neghiamo che spesso abbiamo bisogno della collaborazione autrui ma chi è libero dalle difficoltà non ha la stessa parte di responsabilità di chi sta vivendo la sua difficoltà perché in ultima analisi chi ha fatto il nodo è quello che deve scioglierlo quindi è giusto pensare che vediamo che interessante il medico aiuta ma il malato deve prendere la medicina e questo pare ovvio il professore insegna ma lo studente deve studiare sembra che questo ovvio la banca ci aiuta col prestito ma il debito è nostro il segnale stradale orienta ma osservarlo è compito del conoscente Dio aiuta ma prima dobbiamo aiutare noi stessi la religione chiarisce ma la pratica dipende da ciascuno quindi i problemi sono le leva della nostra crescita esistenziale Anara lo dirà che cosa è stato questo periodo che abbiamo attraversato e cosa sarà mai quello che sta arrivando che paiono colmi di problemi sono un invito alla nostra crescita esistenziale è un invito al nostro cambiamento alla nostra rivalutazione anche se eravamo comodi e lo ero anch'io nella nostra sedia nella nostra casa nella nostra vita dicendo va bene così va bene così viene tutta una situazione che stravolge tutto un motivo c'è e vuoi dire che noi dobbiamo imparare allora a gestirsi in questa nuova circostanza senza sperimentare difficoltà e ostacoli difficilmente l'uomo ricercherebbe il proprio progresso ricercherebbe il proprio progresso il problema è generalmente un sintomo di stagnazione pensate nel nostro sviluppo interiore tutti sono soggetti alla legge dell'evoluzione che richiede una crescita morale e intellettuale vedrete e di questo non sono io regina che dico ma potremmo osservare tutti dopo questo periodo il balso il progresso a cui sarà destinata l'umanità sarà enorme adesso stanno tutti cercando delle soluzioni per una cosa per l'altra per i cambiamenti che dobbiamo subire per un nuovo adattamento eccetera eccetera ma con tutti questi movimenti verranno fuori sicuramente delle nuove scoperte nuove non è scorciatoia ma soluzioni cosa che prima non è che non ci fossero ma alcune non ci fossero altre non sapevamo non ne avevamo idea e quindi queste cose tendenzialmente ci cambieranno e cambierà molto la nostra società certo non posso dire che questo avverrà tranquillamente senza alcun tipo di sofferenza per le persone no anche questo possono avere le loro conseguenze questo è poco ma sicuro ma porterà a un nuovo percorso a una nuova umanità e forse sarà quella umanità che qualcuno ha detto che pensa già che doveva essere arrivata o che doveva arrivare o in qualche cosa che dovevamo vivere e che mancava solo che ci arrivasse fisicamente direttamente Dio ha un progetto ed è quello di rendere i suoi figli spiriti perfetti che carino la felicità pertanto è l'impegno che Dio ha preso con ognuno di noi questo è bello un impegno di felicità quello che Dio si è assunto con noi quando viviamo adagiati non rifiutiamo di crescere noi rifiutiamo di crescere evolverci oppure quando agiamo in disaccordo con un modello di comportamento che già sappiamo essere migliore per noi sorge la segna stagnazione una sorta di trombosi nel flusso di energia della vita capace di generare problemi di ogni genere il problema pertanto ovvero la sfida è un sintomo dell'estagnazione e richiama la nostra attenzione sulla necessità di sbloccare le arterie della nostra esistenza tramite un nuovo modo di procedere questo libro è stato scritto sicuramente prima del coronavirus prima dell'anno scorso perché è un libro di credo due o tre anni fa o anche di più ma queste parole sono estremamente adatte per il momento attuale che stiamo vivendo estremamente Dio vuole o che Dio vuole che noi possiamo o come dicono qualcuno davvero ascoltare ascoltare questa proposta di Dio a un nostro cambiamento a una nostra crescita a una nostra evoluzione al nostro intelletto che deve imparare a a crescere insieme a noi sì è questa la proposta non è un'altra non so quanto possiate essere d'accordo ma io penso che in questo testo abbiamo una una collocazione molto giusta e molto appropriata leggiamo ancora questo spiega perché molti si lamentano di avere ogni strada chiusa e che nulla disfunziona sicuramente le strade sono chiuse perché la persona è chiusa al rinnovamento alla crescita alla trasformazione vuole cose nuove facendo tutto alla vecchia maniera desidera la crescita ma non vuole crescere vuole il progresso ma non vuole progredire vuole che sua vita cambi ma non vuole cambiare pretende pretende di ricevere benefici ma non vuole sapere dei sacrifici e Dio non saprà e Dio non porrà le sue mani su questo problema finché la persona non si renderà conto che deve cambiare perché Dio desidera che i suoi figli crescano e maturino e non siano eternamente come bambini viziati che chiedono cose che evolvendosi possono ottenere da soli Dio ci ha fatti co-creatori dell'opera divina possiamo ad un grado minore ciò che Dio può a un grado infinitamente grande questo dovrebbe suonare come una benedizione nella nostra vita la riconoscenza della nostra figliazione divina e darci tante di quelle risorse mamma mia siamo creatori siamo risolutori di problemi secatori di soluzioni realizzatori di progressi e credete o meno è così che è la nostra umanità questa è la nostra missione nella vita e di certo Dio non condatterebbe il suo progetto facendo per noi ciò che siamo già in grado di fare facendo per noi ciò che noi siamo già in grado di fare quando le nostre preghiere non sono corrisposte tasto dolente dolentissimo quando le nostre preghiere non vengono corrisposte bisognerebbe imparare a pregare tutti noi e dobbiamo fare e rifarci una coscienza una consapevolezza sulla preghiera sul significato della preghiera sulla validità della preghiera come fare come impostare e se qualcuno vi capita perché è un libro che c'è e qualcuno magari ce l'ha anche in casa che si chiama Evangelo secondo gli spiriti traduzione mediterranea oppure Evangelo secondo l'espiritismo tradizione casa del Nazareno tutte e due trattano lo stesso testo dell'Ankardec solo che uno è tradotto come Evangelo secondo gli spiriti l'altro secondo l'espiritismo c'è l'ultimo capitolo capitolo 28 che parla esclusivamente della preghiera come varrebbe la pena leggerlo varrebbe varrebbe la pena leggerlo soppesare e valutare scopriremo tantissime cose e in particolar modo questa di quando la nostra preghiera è più o meno intelligibile è quello che dicono gli spiriti le preghiere intelligibili sono quelle che arrivano al destino sono quelle che arrivano al mondo spirituale e laddove loro possono intervenire in qualche modo preotarci poiché se non sappiamo non dico la formula non è questo ma è la forma di pregare e di rivolgersi di aiuto già il nostro cuore parla naturalmente molto per noi e su questo non ci sono problemi assolutamente ma nel contempo se noi imparassimo che cosa o il miglior linguaggio con cui dialogare con il mondo spirituale ci sarebbe di grande aiuto ci sarebbe anche di illuminazione certe cose magari non ce le immaginiamo e quindi sarebbe proprio il caso di andare a approfondire e invece se immaginiamo e lo sappiamo tanto di guadagnato non c'è non c'è altro da fare che non applicare nella nostra vita e questo è una bellissima cosa allora noi leggiamo ancora un po' di questo testo non andiamo ancora a lungo ma andiamo ancora avanti per un pochino che è quello che parla delle nostre preghiere quando preghiamo Dio chiedendo la soluzione a un problema e vediamo che non otteniamo risposta alle nostre preghiere ciò che sta accadendo è che innanzitutto Dio si aspetta da noi un determinato atteggiamento in relazione al problema che si è presentato perché Dio da padre amorevole qual è quando vede uno dei suoi figli affamato e nota che non può fare nulla per nutrirsi manda immediatamente la soluzione mettendo il cipo in bocca al suo figlio ma se Dio si rende conto che il figlio può nutrirsi da solo e che può muoversi per risolvere il suo problema la sua sfida Dio si aspetta che la persona si muova che faccia quello che può e solo allora agirà completando ciò che è necessario per risolvere la difficoltà quando tu non puoi agire Dio agisce quando puoi agire Dio si aspetta che tu vada con Lui per camminare al suo fianco se il problema mi appartiene significa che c'è una lezione nascosta in esso una lezione che io in nessun altro devo fare per guarire definitivamente i dolori che sfida la mia crescita interiore quando cerchiamo soluzioni agli ostacoli che la vita ci presenta e spesso siamo obbligati a cercare nuove conoscenze cambiare aspetti della nostra vita emotiva cambiare comportamenti modificare i percorsi in breve è così che la vita ci insegnerà a crescere pertanto i problemi che sono punizioni divine ma piuttosto meccanismi che non sono punizioni divine ma piuttosto meccanismi educativi che la saggezza divina dispone per correggere i nostri passi verso la felicità che Dio ha programmato per tutti i suoi figli quindi anche tu anche tu tutti i suoi figli e la felicità è per natura proporzionale alla perfezione dello spirito quanto più lo spirito progredisce e dai tanto più è felice quanto più rallenta il suo progresso intellettuale e morale tanta più sofferenza sperimenta nel suo cammino meditiamo su questa bella lezione di Neio Lussio Neio Lussio è un spirito naturalmente è un libro psicografato come diciamo noi in Brasile è questo il dolore in ogni occasione è il servo benedetto di Dio che si cerca nel suo nome al fine di svolgere dentro di noi il servizio di perfezionamento che non sappiamo ancora come eseguire guarda ogni frase ogni paragrafo verrebbe adito a un tema da svilupparsi da portare avanti da approfondire perché è sì accorgersene che le cose nel mondo sono fatte per noi è dura è dura specialmente se noi ci crediamo ingiustiziati se noi crediamo che il mondo cospira contro di noi che le persone cospirano contro noi che anche il mondo spirituale talvolta cospire contro di noi quando abbiamo questi ragionamenti questi pensieri è dura pensare e comprendere che invece tutto è per noi il mondo il mondo è per noi la natura quello che c'è è con noi e per noi il mondo spirituale che si affaccia a questo mondo è per noi il mondo è extraterrestre che si preoccupa che noi possiamo lanciare delle bombe e distruggerci è per noi e non contro di noi ci sono tanti che fanno il tifo per noi anche i nostri parenti familiari di altre incarnazioni che si trovano momentaneamente disincarnati nel mondo spirituale anche loro sono per noi vedete noi ci troviamo adesso in questo momento sul palcoscenico della vita quindi c'è tutto un pubblico che ci guarda che ci osserva e per loro noi stiamo rappresentando ma c'è tutto un supporto un sostegno che è nel backstage dietro le quinte che fa sì che la nostra vita funzioni di migliore dei modi quando finiamo di vedere un film vi siete mai fatti caso? sicuramente sì nelle titoli di coda quanti nomi anche se è un film semplice o anche un video pubblicitario ma quando fanno scorrere il nome delle persone che sono intervenute una catena di persone enorme enorme e magari davanti ne è apparsa solo una ma indietro è così la nostra vita dietro a noi ce ne sono tantissimi ce ne sono tantissimi sì magari qualcuno vorrà ogni tanto mettere il piedino per farci inciampare ma la maggior parte è per noi e se Dio è per noi chi è contro di noi? chi è contro di noi? chi è? chi può esserlo? ragioniamo ragioniamo io mi accingo a completare questo capitolo questa lettura di questa sera e dai parlando della ribellione della non accettazione eccetera eccetera quando ci ribelliamo alle difficoltà ci si presentano che ci si presentano o quando vogliamo trasferire ad altri la risoluzione dei nostri problemi stiamo impedendo a Dio di risolvere il servizio del nostro professionamento e questo significa che stiamo chiudendo la porta alla nostra guarigione e liberazione per questo era usanza no era usuale sentire Shiko Xavier dire che dovremmo rallegrarci quando sorge un problema perché è il modo in cui Dio lavora per promuoverci nella vita io penso che Ezio Boss lo avesse capito questa perfezione generalmente quelli che vivono senza sfide sono sulla strada per molti problemi ma quando ci troviamo ad affrontare difficoltà e non ci nascondiamo nella paura o nell'apatia e ci lanciamo coraggiosamente ad affrontarla facciamo grandi progressi nella vita questo è il messaggio biblico di Dio che Dio ha per noi si forte e coraggioso non aver paura o ha paura degli altri perché è il Signore nostro Dio che verrà con te lui ti stascerà non ti lascerà lui né ti abbandonerà facciamo attenzione a questo Dio si muoverà solo se noi ci muoviamo Dio rende forte l'uomo che allontana la paura da sé da sé stesso Dio rende coraggioso l'uomo che affronta i suoi problemi di petto e li annienta con la forza di una ragione Dio ci rafforza nel corso degli eventi e nel momento in cui agiamo al meglio di noi stessi è questo Dio che cammina con noi mentre stiamo camminando quando ci fermiamo Dio ci ferma quando ci ribelliamo Dio aspetta quando ci accovacciamo Dio si siede quando rinunciamo Dio tace Dio vuole la nostra guarigione e la nostra liberazione credici davvero Dio è così pazzo da fare un miracolo nella tua vita ma per questo ha bisogno che tu crei le condizioni per il divino soccorso pertanto per quanto difficile sia la tua situazione non smettere di camminare prosegui facendo tutto il possibile per affrontare le difficoltà del presente che tu possa decretare la fine delle lamentelle e delle proteste lasciare andare l'indulgenza verso te stesso e la paura e che ti muova fermamente confidando nel rinnovo del tuo destino a partire dal rinnovamento di te stesso verso il meglio che Dio vuole da te convinciti di una cosa nessuno migliora la propria vita senza prima migliorarsi Dio ti sta guardando proprio ora e osserva cosa farai da ora in poi e tu continuerai a star seduto e con queste parole io concludo questo capitolo di oggi del nostro libro Guarigioni e Liberazione e vi faccio vedere un video che potrebbe perfettamente dimostrare il nostro stato attuale della nostra umanità è un video non recentissimo ce lo dico subito è di qualche tempo fa ma che io trovo wow attualissimo e e va per te che hai deciso di non rimanere seduto di lottare di prendere la tua vita nelle tue mani e dire io ci sono vado parto quindi questo video che vi farò vedere adesso è per tutti voi che avete deciso di fare qualcosa per voi stessi per la nostra umanità ok io torno dopo il video per un saluto finale se per caso non sentite la musica leggete le parole già dicono tutto 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 quello che dovete sentire va bene grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.